...un 3% in più di tasso sui paesi bancari rispetto dagli altri paesi concorrenti come la Germania. Per quanto sostenuto finora, il nostro voto dovrebbe essere non solo non favorevole, ma decisamente contrario. E' pur vero, però, che nella seconda parte del suo intervento abbiamo invece apprezzato quello che a noi interessa, la carta delle riforme, delle riforme per quelli costruzionali che modificano l'accesso dello Stato. Abbiamo apprezzato la proposta della Convenzione sulle riforme e nel termine è stato fissato 18 mesi.